Voglio un amore così forte che continueremo a provarlo. Persino dopo la morte. Camilla, che hai? Camilla! Ha bisogno di un trapianto. Non è possibile, io ero in fondo alla lista. Sto per morire. Tu ce la farai. Me ne occuperò di persona. Si tratta di un lavoro come un altro. Solo che salviamo delle vite. Il nostro personale medico valuterà il caso e prenderà un cuore compatibile. Sta' attento! Amore, ti prego svegliati. Ora la tiriamo fuori, stia tranquilla. Oggi inizierai una nuova vita. Valeria è stata uccisa perché un'altra persona vivesse. Quindi dovrei dimenticarmi di tutto e continuare la mia vita. Quello di Valeria non è un caso isolato né un lavoro da delinquenti comune. Se continui a giocare al detective puoi finire in guai serio. È come se il cuore volesse dirmi qualcosa. A volte mi guardo allo specchio ed è come se vedessi un'altra persona. Ho bisogno di sapere a chi apparteneva questo cuore. Camilla non morirà. Glielo proibisco. Non lo trovi strano? Era da un po' che non provavo una sensazione come questa. Il cuore è il centro di tutte le nostre emozioni. Grazie.